La fiaba è un genere antichissimo che continua a esercitare un grande fascino su piccoli e grandi e gioca un ruolo fondamentale, infatti avvicina i bambini alla lettura e nutre la fantasia e l'immaginario. Nel webinar vedremo il rapporto con la fiaba di dottori fondamentali per il novecento, Rodari e Calvino. Vedremo il rapporto con la fiaba di questi due scrittori sia attraverso alcune delle loro opere che attraverso le loro riflessioni sul ruolo e sulla funzione della fiaba. A cosa servono le fiabe? Rodari rispondeva, servono alla formazione della mente, di una mente aperta in tutte le direzioni del possibile. È importantissimo dunque far leggere le fiabe, ma è importante anche giocare con le fiabe, cioè smontarle, rovesciarle, riscriverle. Vedremo nel webinar, infatti, anche come usare la fiaba in classe come materia prima, suggestiva e stimolante, partendo proprio dalle riflessioni di questi due scrittori. Grazie a tutti!